Qui vi presentiamo le 5 migliori scarpe da tennis. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Mizuno 61 GC 1725. È una calzatura molto leggera e anche comoda per i maschi, e può anche essere utilizzata durante lunghe e anche impegnative sessioni di gioco. Garantisce un ottimo grado di ammortizzazione, grazie all'esistenza di un'intersuola EVA pressata. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla resilienza. La gomma X10 previene l'usura in luoghi ad alto impasto. C'è un'ampia suola che garantisce una sicurezza ottimale in tutti i movimenti laterali. Passando al numero 4. Vision Chaos Comp. Vengono creati per i giocatori ostili che cercano tasso e convenienza. Sono calzature estremamente leggere con un layout progressivo. I supporti sono posizionati tatticamente nell'avampiede delle calzature per fornire assistenza eccezionale, maggiore reattività, sicurezza laterale e controllo. Dynamic Fit di F2 offre una meravigliosa sensazione dell'avampiede, insieme a un supporto vibrante per tutti i gradi di gioco. RDS-T aumenta il supporto e il rimbalzo per migliorare la praticità e anche la reattività. Il singolo Duralasta aumenta l'aderenza e anche la presa, verificando di essere specificamente immune da indossa. Per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Nike Air Vaporace. La scarpa utilizza una sicurezza ottimale e una presa sulle aree, grazie alla suola in gomma immunitaria che garantisce aderenza e ammortizzazione. Veloce e abile, è stato fatto per fornire al piede una maggiore gamma di movimento. Inoltre è estremamente comodo e traspirante grazie alla tomaia in rete con strati di pelle sovrapposti. È leggero e ammortizzante, fornendo maggiore robustezza nelle aree più basate sull'usura. La struttura interna è particolarmente abboggiante, garantendo una notevole comodità. La suola in gomma, adatta a qualsiasi tipo di superficie, consente di indossare le calzature per molte ore senza stancarsi. Almost at the top of our list at number 2. Vision Storm, scarpe da tennis Unisex adulto È un design Unisex, sviluppato per i campi interni e che offre ai giocatori un equilibrio esperto di confort e anche prestazione. Sono apprezzati per la loro agilità, un attributo di costruzione e costruzione che preferisce movimenti veloci in tutte le direzioni e alta stabilità. Hanno un singolo in gomma e un pallone da 9 mm per una sensazione ammortizzata e una reazione rapida. La moderna tecnologia Dynamic Fit migliora la reattività dell'avampiede, mentre l'intersuola RDS ti fornisce un'impottitura molto migliore. Inoltre, la mescolatura last suola offre la migliore aderenza e una tenacità ri- E infine il numero 1 della nostra lista. Vision Recon, scarpe da tennis Unisex adulto Queste calzature interne Unisex sono create per il giocatore a prezzi accessibili alla ricerca di sicurezza e precisione per movimenti più veloci in tutte le istruzioni. Sono eccellenti non solo per il tennis, ma anche per squash e badminton. Preferiscono una sensazione ideale del campo, rendendo certa comodità e agilità grazie al tallone da 6 mm. La sicurezza laterale è stata effettivamente migliorata grazie all'innovazione Dynamic Fit di F1. Offrono inoltre una maggiore stabilità torsionale garantita dal Midofote Steady Framework e offrono anche una vestibilità ottimale fornita dall'edificio e dalla costruzione Endofit. Sono dotati di un'intersuola RDS-T che aumenta il rimbalzo e di una suola Duralast per una trazione, una presa e anche una resilienza ottimali in campo. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.